Sono le scopri, gli stessi, che sono le sposte per i distrutti. Sono quelle che hanno la gestione, quelle che hanno fatto le cose, sono le scopri. Sono le scopri! Ogni e donne! Mi hanno messo tutte le cose, ma dicono! E vergogna di queste parole di oggi che dici di! Vergogna!